Vaccino, guarigione o test negativo saranno da lunedì i tre pass necessari per potersi spostare tra regioni rosse e arancioni. Non servirà più l'autocertificazione. Vengono chiamati anche certificati verdi. I primi due avranno validità per sei mesi, mentre il terzo di 48 ore. A rilasciare questi certificati saranno le strutture ospedaliere, dai medici, dai pediatri o dalle farmacie. Ci sono tre tipi di pass. Il primo riguarda i vaccinati che abbiano completato il ciclo di somministrazione anche all'estero con riconoscimento dell'Unione Europea. La seconda riguarda i guariti da Covid-19. La terza, invece, è per le persone che hanno effettuato un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti alla partenza, con esito negativo. Ci saranno inoltre nuove regole per quanto riguarda gli incontri con gli amici. Una volta al giorno, massimo in quattro persone più i bambini.